salve a tutti benvenuti in questo nuovo video della pantera dello svapo oggi vi porto la recensione del liquido pancake factory lemon souffle questo che dovrebbe essere un pancake con il limone dentro quindi dovrebbe essere anche cremoso la cremosità del anche con il limone dovrebbe essere buone da bad allusare si sente il limone che comunque la parte forte di questo liquido non riesco a sentire con la parte burrosa del pancake con la cremosità qualsiasi che svapando lo si sente andiamo a provarlo allora ragazzi si sente proprio forte il limone gli altri sapori non riesco a sentirli perché il limone è una parte molto forte quindi copre molto il sapore degli altri ingredienti che ci sono all'interno sembra più una sorta di estate non è male però mi aspettavo qualcosa di più per me questo liquido quasi becca un sette e mezzo perché è buono ma non rispecchia quello che c'è scritto quello che dovrebbe essere sta di un estate al limone è buono perché svapabile buono però io devo dare comunque un giudizio per quello che c'è scritto per quello che dovrebbe essere il liquido per me si becca un set sette e mezzo è un aroma comunque concentrato che dovete comunque aggiungere la base ragazzi che dire per me questo si becca un sette e mezzo perché buono si può svapare però non rispecchia quello che c'è scritto quello che dovrebbe essere io vi consiglio di provarlo e poi mi dite nei commenti cosa ne pensate in descrizione vi lascio il link del sito dove potete acquistarlo io vi saluto con la svapata ciao a tutti